Buonasera, allora come vi avevo detto vi ho dato delle spiegazioni in merito alla rottura tra me selvaggia e adesso sono qui per fare questo appunto. Niente, allora, in breve tra noi ultimamente ci sono state delle incomprensioni su diversi fattori, ci sono stati degli atteggiamenti che non mi sono piaciuti per niente e che secondo me non dovrebbero esistere all'inizio basato su un amore vero e sincero, non devono esistere, mi sono stretta a prendere a malincuore dopo averci riprovato, riprovato, riprovato. Ho chiaramente avuto una pazienza infinita con lei, cosa che lei ha ammesso e dopo aver visto degli atteggiamenti che da parte sua, totalmente cambiati, da un giorno all'altro l'ho vista diversa, da un giorno all'altro ha cambiato dei punti di vista, questa cosa io ancora non non riesco a spiegarmela, ho deciso di vendere questa decisione. Il discorso è questo, io a lei ho sempre detto che una volta che sarebbe andata fuori di casa e avrebbe lasciato casa, per noi era finita. Lei ha deciso di fare questo comunicandomelo ieri tramite un messaggio e non come ha comunicato a Esachia poco fa, che lei ha detto a me soltanto avrebbe dormito un'altra notte fuori, assolutamente no, ho i messaggi che mi ha mandato, lei oltre a dire quello, ha specificato il fatto che questa mattina sarebbe venuta a casa a prendere i bagagli e sarebbe andata mia, che non mi voleva lasciare e che voleva la sua indipendenza. Allora, a oggi, a 30 anni, con dei prospetti di vita con una persona insomma un po' più dispessore che una convivenza separata e come 15 anni, diciamo che ho preso questa decisione. Voi direte, perché sui social? Allora, intanto sui social mi hanno messo loro e sui giornali mi hanno messo loro, non era mia intenzione fare ciò. Quindi, siccome a oggi, volendo o non volendo, comunque sia, sono soggetto di critiche, mi sono subito i peggio insulti, le peggio cose, chiaramente devo dar voce a quelle che sono le mie risposte e le mie comportamenti, visto che comunque sia ci state seguendo. E oggi, sapere che c'è stata una rottura, soprattutto da parte di tutte le persone che fino a ieri ci hanno tifato, ci hanno mandato messaggi, tutto quanto, chiaramente io un perché lo dovevo dare. Quindi, lei avendo preso questa decisione, automaticamente si doveva aspettare questa mia presa di posizione. Io questa posizione l'ho presa, ragazzi, avendola valutata e rivalutata tantissime volte. Cioè, ieri sera praticamente è stata una serata di merda, sono stato malissimo, l'ennesima notte che mi ha fatto passare sveglia, sveglio, l'ennesima notte che ha dormito fuori, l'ennesima notte che io non so dove sta, con chi sta, non so quello che fa, e in un rapporto, ragazzi, queste cose non devono esistere. Cioè, non devono esistere. Ti metti a tavolino, sbatti la capoccia, ti confronti e vai avanti. Non che prendi ogni piccolo problema, non faccio in tempo, usci di casa un'ora e tu, p***i, te ne vai, ti fai venire a piegare dai taxi, sparisci, vai in albergo, vai da amiche tue, io sto tutto il giorno all'ocorammer fegal dentro casa, aspetta a te, che ti fai sentire che torni a casa e tu per l'ennesima volta mi dici che rimani fuori. Ragazzi, va sicuro che io ho preso una decisione per la quale ho tantissimi motivi che mi hanno spinto a prenderla, che non sto qua a dire a voi, e mi limito soltanto a farvi partecipi, a partecipi chiaramente di queste motivazioni, e basta. Non aggiungo altro perché sono un signore. Ciao a tutti.